La Sessore Mori, prego Sessore. Grazie Presidente, questa ratifica va con una figura di giunta, la nuova 38 del 13 del 2017, una lezione di urgenza che è seguita all'attribuzione del contributo regionale per microstellizzazione sismica per circa 20.000 euro e da un contributo della comunità montana per i dati sismiche per 38.500 euro con una maggiore trate che promette la concessione di inizia per 15.150 euro. Per un totale complessivo, una maggiore trate di 26.000 euro per il 2017, 9.000 euro per l'anno per 18.000 euro. ovviamente queste maggiore trate, come ho anche detto prima, fanno in paio delle maggiori spese anche in tal senso che è un parere favorevole dell'organo di visione con la indicazione, ovviamente, come abbiamo già detto, di provvedere a un attivamento dei fondosisti che ha seguito un potenziale di travasso dell'SDPS a parte della regionale, su cui già però oggi abbiamo spesso con l'avventamento della maggioranza sottostritto anche da componenti dell'opposizione che vi ringrazio per il loro senso istituzionale. Grazie. 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 Grazie.